L'appuntamento dei ministri dell'interno della giornata dell'APD, in quello appuntamento sarà molto molto importante, ci sarà anche un modo di discutere con questa possibilità che non noi, ma le austrie ci hanno passato. Il problema di oggi è che è un disagio per quelli che sono rimasti, in qualche modo anche danneggiano le organizzazioni dei lavoratori di fare un'assemblea o di esercitare il diritto di sciopero. C'è semplicemente il riconoscimento che i beni culturali, in questo caso i musei, i luoghi della cultura, come le scuole, tutto che il recupero del nostro patrimonio può dare al turismo? Un ulteriore 0,2 per il 2016. Naturalmente io sto parlando non conoscendo le eventuali modalità di applicazione di questa clausola, ma...